Le variazioni di ferratura riguardano Ebanon Jet che toglie gli anteriori ed Ebrius che toglie i ferri posteriori. Ebanon Jet che toglie gli anteriori. Primo segnale convalidato. Eugenia Griff assume l'iniziativa nei confronti di Charlize Magic. Non esce bene dai nastri Ebrius che si ritrae in ultima posizione. Allargo la risalita di Excellen Caraff. Primi 200 metri piuttosto lenti in 15.8. Excellen Caraff ha la possibilità di puntare subito in avanti. Il figlio di Timoco e Rania Power va ai lati di Eugenia Griff che concede il Via Libera. Dopo 400 metri di corsa in 31.5 si è formata una lunga fila indiana con Excellen Caraff che precede Eugenia Griff, Charlize Magic, Hermione Pell. Poi Eagle Wiesel e Ebanon Jet chiudono Evita Wiesel ed Ebrius. 46.8 in 600. Continua a ritmo costante il battistrada il favorito della corsa Excellen Caraff. Eugenia Griff nella sua scia risale per gradi Ebanon Jet nella cui scia si va a sistemare Hermione Pell. Terza ruota per Ebrius. Primo giro, primi mille metri di gare in 1.17.5. Excellen Caraff e Eugenia Griff a largo Ebanon Jet. Stappato il leader, anzi tolto il cuffino. 15.5 di frazione in curva. Excellen Caraff stenta ad impegnarsi. Lo fa meglio quando sopraggiunge ai suoi fianchi Ebanon Jet. Ultimi 200 metri in 14.2. Excellen Caraff e Ebanon Jet. Eugenia Griff acquattata in seconda posizione alla corda. Hermione Pell in seconda pariglia. Si arriva così al meglio in 2.2. Un quarto intermedio in 28.7. Vincenzo Longo comincia a richiedere Ebanon Jet. Raggiunge Excellen Caraff. Lo appariglio quasi all'ingresso in retta. Ebanon Jet attacca a fondo Excellen Caraff che reagisce all'avversario. I due molto vicini. Lotta serrata. Excellen Caraff di dentro. Ebanon Jet di fuori sul palo. Ebanon Jet e Vincenzo Longo mettono il musino davanti a Excellen Caraff. Sul mio cronometro 2.31 con 57.5 per gli 800 conclusivi. Non sono bastati ad Excellen Caraff per respingere, per arginare un eccellente Ebanon Jet. Ricordiamo rendeva 20 metri ma mangia pane e nastri. Questo allievo di Massimo Finetti che si esprime da qualche mese a livelli notevoli. Sempre ottimi piazzamenti. Oggi è arrivato un bel successo per il figlio di Washington e Rondinella Jet. Di cui Massimo Finetti è allenatore e il signor Paolo Elefante. Proprietario. In Salchi. Lomino di Agnano. Vincenzo Longo. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Excellen Caraff di dentro. Ebanon Jet a largo. Lotta intensa. Lotta serrata tra i due. E poi in prossimità del palo. Arriva il musino di Ebanon Jet a giustiziare Excellen Caraff. Grazie. 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 Grazie.